Crystal Ball compare improvvisamente intanto che tu studi, ti compare sulle mani, praticamente ti compare ovunque. È la tua dannazione. Crystal Ball ci puoi far le canne assieme, ci puoi soffiare dentro e gli occhi ti si girano in una strana posizione. E questo è dovuto al fatto che Crystal Ball attacca, appiccica e si attacca anche ai tuoi polmoni. Crystal l'ho.